Ciao a tutti, come promesso ritorniamo con un'interattiva però sul lavoro questa volta, andremo a chiedere quali novità interessanti la prossima settimana nell'ambito lavorativo e lo chiederemo col mazzo di Sibile del lavoro, il mazzo che vi ho presentato video scorso, il mazzo di mia creazione che potrete trovare in vendita da me al prezzo di 20 euro più 5 di spedizione per acquistarlo whatsapp, mi scrivete su whatsapp 340-7849-997 vi lascio nella descrizione del video tutti i link, il numero di telefono eccetera allora io direi che possiamo scegliere un numero da 1 a 3 farò tre letture per cui scegliete distinto la domanda è quali novità lavorative prossima settimana e potete scegliere la 1, la 2, la 3 cosa vi suggerisce il vostro istinto? la risposta 1, la 2 o la 3? ecco, partiamo per le amiche e gli amici che hanno scelto la variante 1 numero 1 io vado a chiedere quali novità nell'ambito lavorativo prossima settimana quali novità nell'ambito lavorativo prossima settimana quali novità per il lavoro per gli amici e le amiche che hanno scelto la variante 1 instabilità situazione precaria pochi soldi questo è il taglio ci parla di instabilità di una situazione precaria di guadagni un po' bassi insomma prossima settimana potrebbe essere una lettura che semplicemente riguarda chi al momento è precario e ha un lavoro in cui non guadagna proprio tantissimo io andrò a scegliere 3 carte 1 2 e 3 per chi invece ha un lavoro a tempo indeterminato io direi che qua prossima settimana un po' di noia instabilità assunzione pausa interruzione momentanea stima essere stimati gli affari vanno bene per molti di voi questa settimana per un qualche motivo ci sarà una pausa un'interruzione momentanea potrebbe esserci qualcuno che potrebbe essere che potrebbe stare in mutua perché non sta tanto bene potrebbe esserci una situazione in cui il lavoro va prosegue noi andiamo al lavoro ma comunque per qualche motivo c'è un'interruzione della routine lavorativa solita insomma è una situazione di precarietà quella che ci che ci dava un po' il taglio per poi tornare secondo me verso settimana prossima o fine settimana a una situazione in cui gli affari vanno ancora bene per chi ha una ditta per conto suo potrebbe essere scusate che a metà settimana o durante la settimana c'è un calo di lavoro per poi riprendersi fine settimana o settimana prossima comunque direi una piccola pausa un piccolo stacco qualche piccolo di sapore qualche piccolo intoppo ma poi si riparte alla grandissima ed è un po' quello che presentava il taglio una settimana instabile fatta di alti e bassi teniamo duro perché io direi che tra fine settimana e settimana dopo settimana successiva poi le cose riprenderanno molto bene potrebbe esserci vista così anche qualche piccolo intoppo con i colleghi visto che poi ci riporta un discorso di contentezza con i colleghi di affari che vanno di nuovo bene eccetera un po' di nervosismo mettiamola così una situazione di alti e bassi per il lavoro e anche per chi ha un'azienda tenere duro perché poi si riprende nel giro di pochi giorni la situazione se dovessi guardare il fondo mazzo vi dirai occhio ai collaboratori occhio a situazioni che non sono esattamente come sembrano occhio ai colleghi per chi ha scelto la 2 per chi ha scelto il numero 2 la seconda variante vuole provare a vedere cosa succederà nell'ambito lavorativo per chi ha scelto la 2 in numero 2 chiediamo quali novità prossima settimana come andrà il lavoro felicità assunzione allora per chi avrà dei colloqui eccetera ci sarà moltissima soddisfazione saremo felici per chi deve essere richiamato in un posto di lavoro qui verrà richiamato vediamo un attimino cosa ci dicono cosa ci dice la stesa sempre tre carte cosa succederà 1 2 e 3 assunzione felicità e vabbè niente il taglio qui era perfetto con la stesa aumenti promozioni comunicazione scritte o contratti tanti soldi il taglio era assunzione e felicità io vi direi qui abbiamo una situazione in cui chi cerca lavoro lo trova i colloqui di lavoro vanno molto bene qualcuno di voi riceverà addirittura una promozione un aumento qualcosa di decisamente buono buone notizie relativamente ai soldi per chi ha un'attività per conto proprio io direi che arriveranno notizie di nuovi contratti eccetera una bella settimana per chi ha scelto il numero 2 nell'ambito lavorativo per chi cerca lavoro direi buoni contatti e buone possibilità di trovare lavoro anche ben retribuito una lettura perfetta davvero quindi mi raccomando per chi ha scelto la 2 tranquilli andrà tutto troppo bene e anche si vedrà qualche soldino in più poi fatemi sapere per chi ha scelto la 3 e ha detto numero 3 scelgo la variante numero 3 chiediamo un attimino cosa succederà prossima settimana nell'ambito lavorativo a taglio situazione opportunità che sfuma fine lavoro scadenza contratto per chi per chi un contratto in scadenza sa già di cosa stiamo parlando per chi lavora per conto proprio occhio perché prossima settimana può essere un po' duretta diciamo così vediamo un attimo 1 2 e 3 fine contratto situazione che va in fumo e qui di nuovo ragazzi il il è un sapevole qui di nuovo il la stesa ci va a confermare il taglio ci dice che ci sono ostacoli in situazioni bloccate che verranno date comunicazioni a voce di persona o al telefono e si passerà a un nuovo lavoro il taglio ci diceva se ricordo bene che una situazione sarebbe andata in fumo ci sarebbe stato un fine contratto per molti io ricordo sempre che una lettura interattiva quindi non può calzare proprio a tutti però per molti di noi che hanno scelto la variante 3 ci sarà una scadenza di un contratto potrebbe essere prossima settimana tra due settimane eccetera questo lavoro secondo me andrà in fumo nel senso che legato alla scadenza del contratto ci si ritrova si pensa che ci si ritrovi per strada in realtà no sono solo ostacoli situazioni bloccate ma poi comunicazioni a voce di persona al telefono ci comunicheranno che arriverà un nuovo lavoro e ce lo conferma una carta che è quella dell'assunzione che io ho pescato dopo il nuovo lavoro perché volevo vedere come sarebbe andato poi un nuovo lavoro qui per molti di quelli che hanno scelto la variante 3 abbiamo la scadenza di un contratto una situazione che va in fumo un nuovo lavoro che arriva per quanti hanno scelto la 3 ma hanno un'attività per conto proprio qui secondo me prossima settimana tra due settimane eccetera ci sarà una situazione di perdita di clienti qualche contratto che magari va in fumo che non ci pagano ma poi buone notizie è qualcosa di nuovo nuovo che ci porta altri soldi altri clienti altri contratti quindi io direi guardiamo la positiva anche questa ok qualcosa di vecchio va ma qualcosa di nuovo guadagniamo io spero che queste carte vi siano piaciute che abbiate trovato interessante durante la lettura come vedete rispondono benissimo con taglio più tre carte quindi attenetevi io se non volete vedere un'evoluzione la cosa migliore è usare taglio più tre carte se poi volete l'evoluzione può essere taglio più sette niente spero vi siano piaciute io le trovo carinissime e come vedete rispondono molto bene molto sono proprio semplici semplici da interpretare niente fatemi sapere se vi piacciono e se le volete scrivetemi su whatsapp in bocca al lupo fatemi poi sapere come è andata la settimana lavorativa un abbraccio ciao ciao ciao